Intanto sento dai discorsi qui dietro che Angela Malaguti contribuisce alla nostra causa con un intero sacco di caramelle. Sono tentato di voltarmi, ma resisto. Comunque non serve a niente. Sul marciapiede del lato opposto, sotto il cono di luce di un lampione, si materializza una donna. La riconosco anche se è un po' distante. È Ziluisa, la sorella maggiore della signora Malaguti. Sì, quella che aveva il negozio di giocattoli. Non ti muovere, non ti muovere, non ti muovere, penso. E non so se lo dico solo a me stesso o se sto supplicando lei. Nel suo caso è perfettamente inutile. Attraversa la strada nella mia direzione. Un formicolio veloce mi sale su per tutte e due le gambe e si spande per il corpo, sulle braccia, fino alla punta delle dita. Comincio a sudare freddo dentro la felpa nera. Stringo i pugni guantati, abbasso la testa e serro gli occhi. Sono un blocco di marmo gelido. Però non sono sordo. È una cosa brutta. Non la dovete fare. Una voce lontana, lontanissima, mi è arrivata dritta nell'orecchio e mi rimbomba dentro alla testa. Grazie.